Vediamo quale armatura posso scegliere oggi. Beh, questa mi piace un bel po'. L'armatura classica? Non lo so, non ho molta voglia di armatura classica. L'armatura d'argento o l'armatura dorata? Andiamo per quella d'argento, sì! Una delle mie armature preferite. Come dici, Jarvis? L'ultimo video ha superato 15.000 mi piace! Wow! Beh, allora vorrei dire che dovremmo fare vedere un altro po' di azione ai nostri iscritti. Hmm, vediamo se c'è qualche super cattivo qua nei paraggi. Diamo un'occhiata. I miei sensi di Iron Man non percepiscono nulla. Cosa sta succedendo là dentro? Là dentro sta succedendo qualcosa di molto losco e cattivo. Andiamo a dare un'occhiata. Jarvis, preparati all'azione! Razzi al massimo! Riesco a percepire una super potenza. È oltre 9.000. Però, non lo so, potrebbe essere anche un difetto di fabbrica. Vediamo, diamo un'occhiata, bussiamo al campanello. Ding dong! C'è qualcuno? C'è qualcuno qua dentro? Ho un brutto presagio. Chi è? Chi è? Ma cos'è? Il Joker! È il Joker! Quella è la risata del Joker! La riconoscerei oltre un miglio! Joker, fatti vedere! Aspetta un attimo, ma il Joker non ha il mantello! Salve! Ma aspetta, chi sei tu? Io? Io non sono nessuno e tu chi saresti? No, 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 aspetta, aspetta, togliti la maschera! Eh, no, è un segreto! No, 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 io riconosco quella voce, chi sei? Io sono Batman! Cosa? Tu non puoi essere Batman! Vabbè, aspetta! Sì, ma scusa un attimo! Ehi! Ehi! Se sei Batman, per quale motivo io sto rilevando una presenza malvagia e cattiva? Batman è buono! Te ne vediamo, scerino! Cosa? Ehi, Batman! No, 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 Batman è buono, lo sanno tutti! Cosa pensi di fare? Non sono buono, hai capito? Ma perché? Cosa ti è successo? Perché Joker mi ha fatto un incantesimo e quindi distruggerò qualsiasi cosa! No! No! No, 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 ragazzi, non posso permetterglielo! Ehi, sta fermo, altrimenti ci penso io! Ah, sì? Fallo un'altra volta e ti faccio vedere! Ok, quella guerra... E guerra sia! Prendi questo! E questo, e questo, e questo, e questo! Allora, farei meglio a ritornare normale, hai capito? Altrimenti ti faccio diventare un... Oh, cavolo! No, 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 Jarvis! Perché non funzioni? Porca miseria! No, 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 no! C'è un problema, c'è un problema! Il tuo amico è spazzato! C'è un malfunzionamento, cavolo! Jarvis, non volare! Soltanto perché tu non puoi volare! Non puoi mica dire a Jarvis! Jarvis! Ma che cavolo? Cadi! Che cavolo sta succedendo? Oh, 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 oh! Oh, mamma mia! Come fai? Come è possibile? Come fai a controllare Jarvis? Che cos'è? Scusa? Oh, mamma mia! Non te l'avevo neanche visto! Che distrelli, attaccatelo! Perché non posso usare le mie armi? Cosa sta succedendo? Perché Jarvis lo controllo io adesso! E come fai? Perché sei cattivo? Dillo, confessalo! Perché? Soccer! Jarvis è ritornato in funzione! È la mia testa! Jarvis è ritornato in funzione! Devo prendere una nuova armatura! Un'armatura impenetrabile! Aiutami, Iron Man! Ha chiesto aiuto! Aiutami! Ok, ci devo pensare io! Questa è una missione per Iron Man! Ok, allora, questa armatura non va bene, purtroppo! Perché lui riesce a controllarla! Vediamo, potrei utilizzare quella dorata! Potrei utilizzare questa! Utilizziamo la Mark 19! Ok, sperando che sia leggermente migliore! Jarvis, ci sei? Funzioni? Oh, sono diventato invisibile! Sono invisibile! Lui non può vedermi! Cadiamo qua in picchiata! Dove è? Batman! Oh, oh, oh! Eccolo! Ok, adesso devo ritornare invisibile! Sono proprio dietro Batman! Vediamo cosa vuole fare! Per quale motivo è diventato cattivo! Batman! Mi senti? Yeah! Sono Iron Man e sono dentro la tua testa! Come sei dentro la mia testa? Sono dentro la tua testa! Perché sei diventato cattivo? Confessalo! Adesso ti faccio vedere io! Oh, oh cavolo! Prendi questo! Prendi questo! E questo! E questo! E questo! Come osi! Ma come osi cosa? Ma cosa pensi di fare? Beccati questo maledetto! Prendi questo! Guarda che ti distruggo quell'armatura! Non è anche un'armatura! È una calzamaglia! Che cosa hai addosso? Non giudicare la mia calzamaglia! Chi te l'ha cucita? La nonnina o la mamma? Che cosa? La mia mamma! No, no, dai! E tu non lo sai che... No, ma non volevo... No, ehi, ehi, ehi Batman! Dai, non volevo scusa! Ho esagerato, hai ragione! Ti chiedo scusa! Ti chiedo... Oh! Era una trappola! Scappa! Deve scappare! Io ho distrutto Thanos, lo sai! Cosa? Ma tu non hai distrutto Thanos! Ma che dici? Eh, eh, sì, l'ho distrutto! Guarda, l'ho ridotto in poltiglia! Ma tu vieni da un altro universo! Non dire frottole! No, è vero! Io sono... Bat... 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 Sì, 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 di quel che vuoi! Adesso devo cambiare mia armatura! Questa non è forte abbastanza, evidentemente! Jarvis! Autodistruzione! No! 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 Oh mio Dio! Ho rischiato! Ok, mi serve l'armatura! Questa non potrà controllarla per nessun motivo! Molto, molto bene! Proviamo le armi! Ok, questo funziona! Proviamo questo! Anche questo funziona! Proviamo questo! Bene, funziona anche questo! E questo funziona pure? Oh! Ok! Funziona! Sì! Direi che funziona alla perfezione! Bene, Jarvis! Andiamo alla ricerca di Batman! Per quale motivo è diventato cattivo? Ha detto che il Joker gli ha fatto bere una pozione? E vuole essere aiutato! Come posso aiutare Batman a ritornare normale? Pensa, Iron Man! Pensa! Beh, probabilmente... Strappandogli la maschera dalla faccia! Dove sei? Oh! Aspetta, sarà mica in quella villa costosissima! Sto andando tutto a fuoco! È stato lui! È stato lui! Ne sono sicuro! Devo spegnere le fiamme di questa villa! Dei poveri indocenti potrebbero vivere qua dentro! Oh, cavolo! Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Non riesco a spegnerle! Perché non riesco a spegnerle? Prendi questo! È questo! È questo! È questo! Spegni le fiamme! Spegni le fiamme! Oh, cavolo! Ho solo peggiorato la situazione! Batman, me la pagherai! Riesco a vederti attraverso i blocchi! Prendi questo! Non mi prendi! Ma come non ti prendo? Sei sicuro? Sei veramente... Cos'è? Jarvis! Distruzione! No, non funziona, mio caro! Questa volta non puoi comandare Jarvis! E se tu pensi veramente di potermi scappare, nonostante io abbia la vista a raggi X, beh, sei uno sciocco! Prendi questi cannoni! Sì, massacratelo! Massacratelo! Distruggetegli tutta l'armatura, la sua calzamaglia! Ehi, Batman! Come sta andando l'armatura? Eh? Quanto ti resta? Si sta distruggendo o sbaglio? Dove sei? Maledetto! Non prendo questo! Non combattere? Guarda, non mi stai facendo nulla! Ho l'armatura fu in vita! È una bamba! Scappare! Oh, cavolo! Prendilo! No! Non funziona più Jarvis! Non riesco... Non riesco a volare! Jarvis! Ma come... Ma com'è possibile che sei così forte? No, 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 mi sfuggirai! Ma dove diavolo si è cacciato? Batman! Fatti vedere, dannazione! Iron Man! Oh, lo sento! Lo sento! Lo sento! Lo sento! Iron Man! Oh mio Dio, quel palazzo è pieno di dinamite! È sicuramente opera di Batman cattivo! Vuoi salvare tutti Iron Man? Certo che voglio salvare tutti! Ehi! Non puoi... Vieni e qui! Non puoi fare del male ai poveri civili che vivono in questo palazzo, chiaro? Entra qua dentro! Non ci provare! Ascolta le mie ultime parole! Ok! Come le tue ultime parole? Perché? Sì, perché, visto che non posso distruggerti, ti porterò con me! No, 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 no! Avvio! Devo salvare tutti! No, 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 no! No! Oh mio Dio! Cosa? Cosa? Cosa è successo? Cosa hai fatto? Batman! No, deve essere ancora vivo, deve essere qua! Deve essere in mezzo alle macerie! Batman! Batman! Dove cavolo è? Batman! Batman! Ci penso io adesso! Dove sei? Fatti vedere, vigliacco! Hai distrutto un intero palazzo! Hai ucciso degli innocenti! Oh! C'è un passaggio segreto! Vuoi vedere che è scappato da qua? Non lo so, non si direbbe! Dannazione, dannazione! Mi rifiuto di crederci! Mi rifiuto di pensare che sia veramente morto! Batman, dove sei? Iron Man, Iron Man! Ti sento! Ci rivedremo presto! Come ci rivedremo? Ci rivedremo presto! Ma dove sei? Ha ucciso tantissimi innocenti senza alcun motivo! E poi se l'è data a gambe! Quello non è il vero Batman! Devo trovare un modo per farlo tornare normale! Purtroppo è stato vittima di un incantesimo del Joker! Ecco perché è diventato cattivo! Ma io ho un piano! Che bambi sono stato vittima!